Ciao a tutti, oggi parliamo del magnesio, un elemento nutritivo alla cui importanza viene ricondotta soprattutto al fatto che si trova al centro della struttura della molecola della clorofilla. Risulta pertanto fondamentale per lo svolgimento della fotosintesi clorofiliana. In realtà svolge una serie di funzioni molto importanti, dal momento che è coinvolto negli scambi intercellulari e nella traslocazione dei prodotti della fotosintesi. Risulta inoltre necessario per l'integrità dei ribosomi, quindi è importante per la sintesi proteica, nonché per garantire la stabilità strutturale di acidi nucleici e membrane cellulari. Il contenuto di magnesio nel terreno varia generalmente dallo 0,05 allo 0,5%, con livelli massimi nei terreni argillosi e minimi in quelli sciolti. La parte utilizzabile dalle piante, ovvero il magnesio solubile e il magnesio assorbito nel complesso di scambio, varia dal 2 al 5% del magnesio totale presente nel terreno. Il magnesio viene assorbito come catione Mg++ e il massimo fabbisogno della pianta si manifesta tra il germogliamento e l'invaiatura, con un picco in corrispondenza della fine fioritura. In linea generale si ritiene che le asportazioni possono essere compensate con un apporto annuale variabile dai 12 ai 20 kg di MgO per ettaro, in funzione di quelli che sono i livelli produttivi del vigneto. La carenza di magnesio si manifesta con una netta decolorazione del margine fogliare a partire dalla fase fenologica di posta legagione, che interessa in modo particolare le foglie più vecchie. Questa decolorazione ha sfumature giallastre nei vitini a bacca bianca e sfumature rose nei vitini a bacca nera. Col passare del tempo la decolorazione tende ad espandersi verso il centro della foglia interessando gli spazi internervali. Si ricorda che un basso tenore di magnesio associato a un basso livello di calcio e ad un'elevata concentrazione di potassio porta a quella fisiopatia nota col nome di dissecamento di stale del racchide.